Settima corsa, Ippica Nazionale, concorso 2865, 1600 metri, uno Stire del Rio, Settimio, Fabio Mollo, due Nando Vlaici, Antonio Velotti, tre Spineta, senza perri, Lorenzo Pesana, quattro Romy Pless, senza perri, anteriori, Salvatore De Lorenzo, cinque Sandy Rock, Paolo Buino, sei Rizzal, Cosimo Cangelosi, sette Socrate Ponte, senza perri, Santo Mollo, seconda pila, otto, set, Crippel, Bisnesichelli, nove Siva, senza perri, anteriori, Edoardo Locisano, dieci, Missuri Car, Marcello Lettieri, undici, Mercurio Spin, Andrea Guzzinati. In chiusura di gioco, favorito Socrate Ponte, di misura su Nando Vlaici. Non tocca la Socrate Ponte al pari di Robby Blessed, prima dello stacco sbaglia Socrate Ponte al pari di Siva. Rizzal avanti a Sandy Rock, Rizzal precede Sandy Rock, così lungo l'arco della piegata, Rizzal che fa andatura, avanti a Sandy Rock, 13,4 per il lancio alla media di 1,07, in terza posizione Spineda, in quarta Sire del Rio, poi Nando Vlaici, si esce dalla curva con Rizzal Patti Strada, sempre avanti a Sandy Rock. Numero 7, Socrate Ponte, squalificato. Quattro, 15,8 agli ultimi due, continua all'avanguardia Rizzal, intanto squalificato Socrate Ponte, Rizzal in vantaggio, gli ultimi duecento in quindicinetti, 44,2 per il 600, a media di 13,7. All'avanguardia continua Rizzal, in seconda posizione Sandy Rock, in terza sempre Spineda, poi Sire del Rio, paletto di metà corsa, ha passato in 1,006, 16,4 gli ultimi due, 31,4 gli ultimi quattro, sta migliorando Sire del Rio. All'avanguardia Rizzal, in seconda Sandy Rock, raggiunta da Sire del Rio, in quarta posizione Spineda, Sire del Rio, si profila su Rizzal, sta passando Sire del Rio, Sire del Rio avanti a Rizzal, poi Sandy Rock, dal gruppo potrà migliorare anche Romy Blessed. Così lungo l'arco della piegata, 1,34, i mille due, 14,7, gli ultimi due, 29,8, gli ultimi quattro, sbaglia. Numero 6, Rizzal squalificato. Addirittura con Sire del Rio in vantaggio, dal gruppo continua la progressione di Romy Blessed, Sire del Rio avanti a Romy Blessed, Romy Blessed che insiste nell'attacco a Sire del Rio, grossa sorpresa, Romy Blessed, su Sire del Rio, Spineda, Sandy Rock e Missouri Carl, sorprese, del su sorprese, 14,6, gli ultimi due, 32 il quarto conclusivo, 2,006 in tempo totale, media al chilometro della vincitrice, 1,15,4. Podio a sorpresa, 4 Romy Blessed, 1, Sire del Rio, 3, Spineda, questo il risponso dell'Ippica Nazionale, concorso 2865. Sire del Rio, 3, Spineda, questo il risponso dell'Ippica Nazionale, concorso 2865.